Allora ragazze, chi è che chiama la pizzeria per ordinare? Io di sicuro non chiamo, un po' di... ma di gola non mi capirebbe. Martina, non stiamo a scuola, è inutile che fai finta di rovistare nello zaino, comunque chiami tu alla pizzeria. Ah, e... no no, io non chiamo ragazze. No no Martina, invece chiami proprio tu, visto che sei la più colta e la più brava a parlare, tieni. Infatti sapientina, chiama tu? Uffa, ho troppa paura. Allora, sta squillando? Pronto? Pizzeria di giro anche lì. Sì, ciao. Salve, mi dica. Che lì si fanno le pizze? Fate le pizze? È una pizzeria signora, cosa vuole che facciamo? Comunque per me una diavola. Allora guardi, per la mia amica Serena una diavola. A me non interessa sapere il nome di chi la mangerà. Ha ragione. E poi mi fa un... Per me un calzone fa un culo. Un calzone fa un culo. Signora, ma lei sta scherzando? Eh? A fan culo ci va lei. Che figuri di merda, ragazze. Senta, faccia le pizze che vuole legge, tanto che la sto chiamando. Ok, perfetto. Mi dà l'indirizzo per la consegna? E me le mandi? No, aspetti. Mia mamma dice di non dare i dati personali agli sconosciuti, quindi io non posso dirle dove stiamo. Signora, ma lei sta scherzando? Signora, qui c'è gente che sta lavorando. Abbia meno rispetto, vada a cagare. Ha staccato, ragazze. Ben si è stata brava. Imbecili.